Il ministro Lupi in un'intervista sull'Alitalia, che è il grande problema come quello dei trasporti di cui lui dovrebbe interessarsi, ha osato emettere giudizi pesanti sulla Lega definendola razzista e xenofoba. Io mi sono sentita non offesa perché non può offendermi, ma arrabbiata perché non può fare il giudice su una vicenda, quella dell'immigrazione che sta diventando un dramma umano, è un dramma per la gente che muore nel mare, è un dramma per l'Italia che con Mare Nostrum sta aiutando quelli che sono i nuovi schiavisti e quindi fanno morire la gente in tutte le maniere, è un dramma per tutti questi bambini non accompagnati perché non hanno accoglienza, questa non è solidarietà, non è solidarietà per queste persone che arrivano e non hanno un futuro, non è solidarietà per questi bambini che vengono utilizzati anche per finalità molto ma molto preoccupanti e farebbero bene al ministero a indagare dove vanno questi bambini e se restano in Italia dobbiamo tenerli in istituto fino ai 18 anni, questo non significa creare benessere a loro e si tolgono risorse ai nostri che in questo periodo soffrono per mancanza di lavoro.